11 le vittime accertate del naufragio della Concordia al Giglio ieri trovati altri cinque corpi senza vita a poppa della nave continuano le ricerche dei 22 dispersi si rischia l'emergenza ambientale a breve l'inizio delle operazioni per svuotare i serbatoi del relito il GIP concede gli arresti domiciliari al comandante della Concordia il pubblico ministero dice non capisco perché Francesco Schettino già a casa a metà di Sorrento nell'interrogatorio ha ammesso di aver sbagliato manovra ma nega di aver mai abbandonato il relito ma le telefonate con De Falco lo smentiscono attesa per l'andamento dei mercati anche ieri piazza affari positiva spread in calo nonostante il declassamento delle agenzie di rating doccia fredda però della Merkel a Monti l'Italia può farcela da sola dichiara la cancelliera tedesca oggi a Londra l'incontro tra il premier italiano e Cameron e sempre oggi nuovo incontro tra il governo e rappresentanti dei tassisti che contestano le liberalizzazioni alle quali l'esecutivo sta lavorando ieri sera risse e tensioni davanti a Palazzo Chigi con l'esplosione di petardi protestano anche i farmacisti Sono le 7.34 una buona mattinata dalla redazione del telegiornale allora lo avete sentito ieri per quello che riguarda il naufragio della Concordia è stata una giornata importante perché innanzitutto il ritrovamento di altre 5 persone di altre 5 vittime ha aggravato appunto il bilancio di questa tragedia ma soprattutto è stato il giorno delle responsabilità con l'interrogatorio del comandante e soprattutto con la diffusione delle telefonate fra il comandante Schettino e il comandante invece della Capitaneria di Porto di Livorno De Falco che hanno letteralmente fatto il giro del mondo ma oggi è un altro giorno, oggi si comincia invece davvero a discutere seriamente del problema ambientale alle 16 il ministro dell'ambiente Clini per l'appunto riferirà alla Camera perché bisogna cominciare a svuotare i serbatoi della nave, è un'operazione lunga e complicata ma intanto facciamo il punto con Andrea Pranti 11 vittime si aggrava il bilancio della Concordia ieri altri 5 corpi sono stati estratti dalla pancia della nave, sono 4 uomini e una donna tra i 40 e i 60 anni erano nella zona del ponte 4 nella parte della poppa sommersa ci sono volute 5 ore per tirarli fuori, indossavano tutti i giubbotti salvagente sono stati ritrovati dai sommozzatori della Guardia Costiera entrati nello scafo attraverso gli squarci aperti con le esplosioni controllate dagli incursori della Marina l'ultimo bilancio quindi è di 11 morti e 22 dispersi tra i quali 6 italiani, compresa la piccola Diana Arlotti di Rimini di appena 5 anni 13 sono cittadini tedeschi, erano 14 uno di loro è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri nella sua casa in Germania i sommozzatori intanto continuano a perlustrare la grande nave in condizioni estremamente difficili, al buio e tra gli oggetti che galleggiano ma c'è poco tempo, le condizioni meteo stanno per cambiare nelle prossime ore è prevista una grossa mareggiata che rischia di spostare il relitto danneggiando i serbatoi pieni di carburante per questo appena saranno sospese le ricerche la società olandese specializzata comincerà le operazioni di recupero del gasolio che dureranno un mese intanto fa il giro del mondo la telefonata tra l'ufficiale della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, De Falco e il comandante della Concordia, Schettino, che ha abbandonato la nave ci sono già dei cadaveri Schettino, avanti non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito Ve lo devi dire lei quanti ce ne sono? Cristo! Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa Schettino? E vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno? Ora! E allora questa era la telefonata, dicevo che ha fatto davvero molto molto effetto, intanto il capitano appunto Francesco Schettino da questa notte alle due è tornato a casa sua a metà di Sorrento perché appunto gli sono stati concessi gli arresti domiciliari ma evidentemente non è finita qui, fra l'altro questa mattina ci sarà una riunione dei pubblici ministeri a Grosseto perché probabilmente ci sono altre persone della catena di comando coinvolte in tutta questa vicenda, allora bisognerà appunto decidere se estendere l'accusa di abbandono della nave anche agli altri ufficiali. Antonella Galli. Francesco Schettino torna a casa a metà di Sorrento nel cuore della notte. Il comandante della Concordia è restato in carcere solo tre giorni. Il GIP lo ha interrogato per quattro ore, poi ha deciso. Ha convalidato il fermo ma gli ha concesso gli arresti domiciliari. Ve l'aspettavate? In questa situazione francamente no. Il giudice ha dimostrato molta attenzione al rispetto della... Una decisione che ha sorpreso anche il suo legale. Non capisco la decisione del GIP, ha detto da parte sua il capo della procura di Grosseto che aveva fatto arrestare Schettino perché temeva che potesse inquinare le prove ma soprattutto che potesse fuggire all'estero. Per il giudice evidentemente non è così. Restano le accuse, pesanti. Nell'interrogatorio il comandante della Concordia ha provato a difendersi. Non ho abbandonato la nave, quello scoglio me lo sono trovato davanti. Ho salvato centinaia di persone, portando la nave vicino alla costa dopo l'impatto, ha detto. Ha ammesso solo di essere stato lui al timone della nave e non è poco. L'ipotesi dell'inchino c'è stato un passaggio... Scusate, abbiate pazienza. C'è stato un passaggio sotto costa davanti all'isola del Gile. Che fosse inchino, che fosse passaggio sotto costa poi lo verificheremo e ve lo saperemo. Ma poi non cambia molto. Davanti al carcere qualcuno ha lasciato una scritta che Schettino forse neppure ha visto. Prima di passare agli appuntamenti politici c'è un'altra notizia di Cronaca che riguarda un incidente stradale gravissimo avvenuto sempre intorno alle 2 di notte sul grande raccordo anulare di Roma. Un camion è piombato addosso ad una vettura, una Citroen, che si trovava ferma nella corsia di emergenza e ha ucciso tutte e 5 le persone che si trovavano a bordo, ferendo anche uno dei due agenti della polizia stradale che si era fermato per prestare per l'appunto soccorso. È stato anche già sottoposto al test e all'etilometro il guidatore di questo camion. Non è risultato ubriaco. Ovviamente adesso bisognerà capire che cosa ha portato allo sbandamento di questo camion. Dicevo, ci sono invece gli appuntamenti politici di cui parlare. Prima fra tutti il viaggio del Premier Monti a Londra. Pensate, ben 9 appuntamenti in meno di 6 ore. Uno è dedicato al Premier Cameron, tutti gli altri, quindi la parte preponderante, ad incontrare i cosiddetti investitori, i mercati della City, perché questo è in realtà lo scopo del viaggio, far capire che l'Italia ce la può fare anche se bisogna fare i conti con le notizie che arrivano da Washington. Questa notte la Banca Mondiale ha diffuso le stime sulla crescita del pianeta e non sono particolarmente buone. Adriana Bellini. In attesa degli esiti della missione di Mario Monti, che sarà questa mattina a Londra, per illustrare alla City e al Premier David Cameron la svolta virtuosa dell'Italia e convincere di conseguenza i mercati ad investire nel nostro paese, il Governo fa i conti con il no arrivato ieri da Berlino alle nuove richieste d'aiuto contenute in una intervista al Financial Times del Premier. Il capo dei consiglieri economici di Angela Merkel, Wolfgang Franz, ha infatti dichiarato che l'Italia può e deve fare il lavoro da sola, risperendo dunque al mittente quello che era sembrato da parte di Monti un vero e proprio appello alla Germania a dare una mano agendo sui tassi di interesse. Un appello pensato in previsione del vertice a tre di venerdì assieme anche alla Francia, che è invece slittato a febbraio per volontà di Nicolas Sarkozy. E sebbene sempre dalla Francia, per bocca del Ministro delle Finanze, François Baroin, arrivino attestati di fiducia nelle capacità dell'Italia di far fronte alla crisi, il no della Germania è una doccia fredda nel giorno in cui l'agenzia di rating Fitch minaccia ulteriori declassamenti e Mario Draghi definisce gravissima la situazione nell'eurozona. Una situazione da cui è urgentissimo cercare di uscire fuori, denuncia il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che invita i membri europei ad alimentare le risorse anticrisi. E a rincarare la dose c'è anche la Banca Mondiale, che nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali parla di un'Europa di fatto già entrata in recessione. E invece ieri è stata la volta della Banca d'Italia. Il governatore Ignazio Visco ha detto che anche noi sicuramente andiamo incontro ad un periodo di recessione, addirittura di crescita sotto zero per il 2012, intorno allo zero per il 2013. Poi forse ci sarà davvero una ripresa. Certo, le cose non si mettono bene. Fra l'altro, lo sapete, venerdì l'agenzia di rating più importante, Standard & Poor's, ha declassato nove paesi europei. E c'eravamo ovviamente anche noi fra di loro. Ieri, a cascata, è toccato anche alle nostre banche e a molti dei nostri enti pubblici. Sonia Mancini. Né il declassamento di nove paesi dell'Unione, né quello del Fondo Salva Stati, entrambi ad opera dell'agenzia di rating Standard & Poor's, hanno provocato scossoni sui mercati finanziari europei. Ieri hanno chiuso tutti in positivo. Sopra lo zero anche Piazza Affari, nonostante il rischio di subire un nuovo declassamento targato Fitch, entro fine mese. Vedremo stamani come riapriranno le borse, dopo i tagli di rating di ieri di alcuni dei principali gruppi italiani, firmati ancora da Standard & Poor's. Ad essere colpite dalla scura degli analisti della società americana sono state poste italiane, ENI, Assicurazioni Generali, Unipol, Cattolica Assicurazioni e Cassa Depositi e Prestiti. Stessa sorte per alcune aziende pubbliche francesi, tra cui il gigante dell'energia EDF, la rete di trasporto elettrico, RTE, e la compagnia ferroviaria Transalpina. Dobbiamo imparare a fare a meno delle agenzie di rating, raccomanda il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dopo che nell'intervista rilasciata al Financial Times, il Premier Monti aveva fatto notare che gli ultimi giudizi negativi non hanno colpito il suo governo tecnico, ma le istituzioni politiche europee. Non c'è alcun complotto segreto dietro il nostro lavoro, dichiara David Tiley, analista capo del rating sul debito sovrano dell'agenzia Fitch. È questa la sua risposta alle accuse di scarsa trasparenza o di perseguire, nel caso della statunitense Standard & Poor's, gli interessi americani. Che sia vero o meno, resta il fatto che anche oggi le piazze europee dovranno schivare una nuova tegola. E noi invece abbiamo a che fare con le liberalizzazioni, l'appuntamento con il Consiglio dei Ministri è fissato per venerdì mattina, e quindi ancora si tratta. In particolare fanno notizia i tassisti, ieri hanno protestato decisamente in modo vivace a Roma. Oggi si replica dalle 10, assemblea al Circo Massimo e poi intorno alle 6 del pomeriggio un nuovo appuntamento con il governo. Ma non ci sono ovviamente solo i tassisti. Paolo Celata. La giornata di protesta dei tassisti che ieri hanno invaso Roma per manifestare contro la liberalizzazione del settore decisa dal governo è finita con una rissa davanti Palazzo Chigi. All'ora di cena sono volati schiaffoni tra chi ha accolto favorevolmente il rinvio ad oggi e chi invece voleva maggiori garanzie dal vertice con il Premier Monti. Le proteste iniziate nel pomeriggio al Circo Massimo sono continuate davanti Palazzo Chigi. Cori, fumogeni, blocco del traffico con il centro di Roma in tilt. Via del Corso è stata chiusa, le linee degli autobus deviate, i romani hanno passato le ore alla disperata ricerca di un mezzo di trasporto. Con i tassisti Monti avrebbe concordato un testo simile alle lenzuolate di Bersani. Non ci sarà dunque la completa liberalizzazione delle licenze e il potere di incrementarne il numero verrebbe attribuito ai comuni. Ma modifiche le avrebbero ottenute anche altri settori. Banco posta non sarà scorporato da poste sulla separazione della rete ferroviaria da ferrovie deciderà successivamente l'autorità per i trasporti. Secondo il sindacato di settore favorevole salterebbe anche la parte del pacchetto liberalizzazioni che riguarda i gestori degli impianti di rifornimento di benzina. Ma la notizia è stata smentita da fonti del governo che confermano invece la programmata liberalizzazione del settore energia compresa la delicata partita che riguarda la separazione di Snamgas da Eni. Tra i servizi pubblici essenziali da liberalizzare rientrano quelli idrici, durissimo Di Pietro, che attacca, non permetteremo a nessuno che venga calpestata la volontà dei cittadini, espressa nei recenti referendum contro la privatizzazione dell'acqua pubblica. Contro le liberalizzazioni delle farmacie si sono incatenati davanti Montecitorio alcuni parafarmacisti. Per verificare se Monti ascolterà le richieste e modificherà qualcosa o se andrà avanti per la sua strada non dovremo aspettare molto. Dopodomani, venerdì, alle 10 del mattino è stato convocato il Consiglio dei Ministri che deve varare la prima parte del piano complessivo di liberalizzazioni da presentare all'Eurogruppo a fine mese. Poi il Premier si occuperà della riforma del mercato del lavoro. Ci sono delle novità per quello che riguarda l'omicidio del vigile urbano di Milano, Nicolo Savarino, perché il ragazzo slavo che è stato fermato e accusato appunto del suo omicidio pare che non sia maggiorenne, dunque non abbia 24 anni come dichiarato all'inizio, ma 17, il che ovviamente complica un po' le cose. In attesa di essere stradato, perché in questo momento si trova in Ungheria e quindi ci vorranno almeno una decina di giorni, ovviamente si stanno effettuando ricerche. Domani ci sarà invece l'esame utoptico sul corpo del vigile e finalmente poi potranno essere celebrati i funerali. Bene, io adesso mi fermo qui e invece do la linea a Edoardo Soldati perché è il momento dello sport. Sì, buongiorno Flavia, buongiorno anche voi a casa. Dunque, continua a tenere banco la vicenda legata al trasferimento dell'attaccante del Manchester City, Carlos Tevez. Sembrava che Tevez alla fine dovesse finire al Paris Saint-Germain, ma secondo il club inglese non c'è stata alcuna offerta per il giocatore. Il servizio di Luca Catuogno. 29 milioni subito, più 8 di bonus. Il Paris Saint-Germain avrebbe trovato l'accordo con il Manchester City per Carlito Tevez. Il condizionale è quanto mai d'obbligo, visto che il club inglese ha smentito l'indiscrezione della France Press che ieri pomeriggio aveva rivelato anche i dettagli del contratto proposto da Leonardo all'attaccante argentino. 7 milioni a stagione per i prossimi tre anni e mezzo. L'annuncio ufficiale sarebbe dovuto arrivare soltanto dopo il sì del giocatore che già oggi avrebbe potuto raggiungere Parigi per la stretta di mano decisiva. Ed invece tutto sembra tornare al punto di partenza. Al momento l'unica certezza è che tra qualche ora il procuratore di Tevez incontrerà i dirigenti del Paris Saint-Germain. Il tormentone dunque continua. Il Milan, impegnato stasera nella gara secca di Coppa Italia a San Siro contro il Novara, potrebbe riprovarci, avendo già incassato l'ok di Tevez al trasferimento in rosso-nero. Diversa la posizione dell'Inter. Il presidente Moratti ha ribadito l'interesse per l'attaccante sudamericano, ma la trattativa sembra essersi raffreddata. I dubbi riguardano l'opportunità dell'acquisto. Ranieri è stato chiaro e l'infortunio di Stankovic ha scombussolato i piani di mercato. Il reparto da rinforzare nell'immediato è il centrocampo, che potrebbe perdere Tiago Motta. Nel mirino di Ancelotti è dello stesso Paris Saint-Germain. Si fa quindi largo l'idea di arrivare subito al genoano Kucca e soprattutto al talentuoso brasiliano Lucas. Il 19enne del San Paolo ha un costo vicino ai 25 milioni, più o meno quanti ne spenderebbe l'Inter per Tevez. Ma in questo caso si tratterebbe di un investimento, pensando magari a un futuro senza Sneijder. E non solo Tevez, vediamo quali sono gli altri affari di questo calcio in mercato di riparazione insieme con Paolo Pellacani. Il Paris Saint-Germain cerca a 360 gradi e bussa anche alla porta dell'Inter per Tiago Motta. Ai francesi piace molto il centrocampista, ma il suo agente smentisce contatti. La squadra di Leonardo e Ancelotti avrebbe comunque pronti 8 milioni di euro per l'italo e brasiliano. Soldi utili all'Inter, che molto probabilmente a breve si accorderà con il Genoa per l'arrivo di Kucca. La Serie A mette a punto gli ultimi acquisti di stagione. Al Milan intanto torna Alexander Merkel. Il centrocampista tedesco classe 92 arriva in prestito per sei mesi dal Genoa. Ma è a Firenze che in questi giorni si muove molto del mercato made in Italy. Dalla squadra di Delio Rossi dopo la cessione di Gilardino al Genoa potrebbero andare via altri pezzi da 90 tra cui Montolivo e Cerci sul quale il Genoa è in pole position. La maglia viola invece la vorrebbe indossare presto a Mauri. Serve l'accordo con la Juve e la chiusura della vertenza economica tra il brasiliano e il club. Ma a breve l'affare potrebbe essere concluso. Intanto la Fiorentina ha dato l'ok a Santiago Silva che è volato in Argentina per sottoporsi alle visite mediche con il Boca Junior. In viola potrebbe approdare in prestito dalla Sampdoria Palombo. Il centrocampista del Fluminense, Marchinho, è vicino alla Roma ma Sabatini ha chiesto un ulteriore sconto sul prestito. In settimana contatto decisivo tra i due club. Affari in Brasile anche per l'Inter. Branca va in Sud America per definire la trattativa per il talento del San Paolo Lucas che comunque arriverebbe non prima della prossima estate. E parliamo della Coppa del Re, la Coppa di Spagna perché stasera c'è lo scontro fra le due squadre più forti del mondo nei quarti di finale il classico fra Barcellona e Real Madrid. Servizio di Nicolò Di Tiene. Da quando allena Real Madrid non ha mai vinto nei minuti regolamentari contro il Barcellona. In otto occasioni solo una volta José Mourinho ha superato gli arci rivali dei catalani nei supplementari nella finale della Coppa del Re dell'anno scorso. Questa sera nell'andata dei quarti di finale della stessa manifestazione si incontreranno le due superpotenze del calcio spagnolo ed europeo. Una sfida come ogni classico che si rispetti carico di attesa di tensioni e di polemiche. Mourinho in questa occasione più che sui rivali del Barcellona si è sfogato sulle troppe critiche che sono piovute sul leader della squadra Cristiano Ronaldo. Il portoghese autore di 21 reti in 18 match di campionato è stato fischiato sonoramente nelle ultime partite dai suoi sostenitori. Una situazione che nel breve potrebbe creare grattacapi allo Special War. Il Santiago Bernabeu sarà esaurito su internet e i biglietti vengono rivenduti all'astronomica cifra di 1200 euro. In questo stadio Pep Guardiola allenatore del Barcellona non ha mai perso in 5 partite disputate 4 successi e un pareggio. L'ultima vittoria di poco più di un mese fa 3 a 1 dei Blaugrana con l'ennesima partita spaziale della squadra catalana. In casa Barça mancheranno molti giocatori. Villa, Fellai, Pedro, Keita in porta titolare pinto al posto di Valdez. Per Guardiola però ci sarà il talismano Messi in rete 13 volte in 14 incontri contro il Real Madrid. L'incubo per i Blancos e per Cristiano Ronaldo che da quando l'argentino esplosono non è riuscito a togliersi di dosso l'ingombrante ruolo di secondo attore protagonista del calcio internazionale. A proposito di Coppa del Re ieri sera l'alta squadra di Barcellona l'Espagnol ha rischiato grosso nell'andata dei quarti di finale contro il Mirandes. I catalani in maglia blu avevano combinato un disastro tanto che il Mirandes squadra di terza divisione che però ha eliminato già Villareal e Santander era andato in vantaggio di due gol siglati da Arroyo e Infante. Morale all'84esimo l'Espagnol perdeva 2 a 0 ma in sei minuti la rinascita che ha portato i catalani tre volte in gol prima con Weiss all'85esimo due minuti dopo con Rui Fonte ed infine con Verdun all'89esimo 3 a 2 e gara di ritorno che si giocherà il 24 gennaio. È tutto per lo sport a te Flavia. Allora noi diamo subito la linea a Emanuella Ferri perché oggi tocca a lei condurre a Omnibus io vi ringrazio invece per averci seguito ci vediamo se volete domani mattina buona giornata. Grazie a tutti.